Assessore Scaiola, come recepisce, come valuta questa iniziativa di ANCI, i costruttori ediliche guardano a questo punto al mare, dicono non lasciamo perdere, ormai sulla terra in pratica il mercato dice che non si può costruire, guardano sul mare per dire miglioriamo qualche approdo e magari il turismo può passare anche dal nostro mare. Cosa dice lei? Ma sicuramente è un'ottima idea, io con ANCI Imperia, con ANCI Liguria c'è una collaborazione che va avanti da tre anni con l'amministrazione Toti, abbiamo portato a casa risultati importanti, modifiche di leggi, nuove norme per facilitare la riqualificazione, rigenerazione urbana e rilancio quindi anche di tutto il comparto edile ed economico. Sono ottime idee, io credo che sulla terraferma ci sia da fare, non nuove costruzioni ma come prevedono le nostre leggi, riqualificazione e rigenerazione, c'è la possibilità di abbattere quelle costruzioni fatte in zone a rischio perché purtroppo nel nostro territorio, in Liguria, nella provincia d'Imperia, negli anni passati, a causa di cattive amministrazioni e di norme poco chiare, si è permesso di costruire, di costruire anche troppo e di costruire male. Ora serve intervenire sull'esistente, riqualificando dove è possibile, rigenerando dove è possibile e anche avendo il coraggio di abbattere quelle costruzioni che sono pericolose o dannose o non hanno al più un senso. Guardare verso il mare sicuramente siamo in Liguria quindi ha un senso farlo, soprattutto anche per un discorso di viabilità, io credo che noi dobbiamo concentrarci anche sulle opere e quelle infrastrutture come stiamo facendo che possano dare più ossigeno alla viabilità che abbiamo sulle nostre strade ma allo stesso tempo guardare verso il mare. Nelle nostre norme del demanio marittimo abbiamo facilitato la possibilità di realizzare porti pubblici per i comuni sui propri territori con più facilità di realizzare scali e quindi questo dovrebbe aiutare il privato a poter proporsi ai comuni per collaborare alla realizzazione di realtà che siano sicuramente di ampio spazio e che possano dare anche risposte concrete per l'economia turistica.